La capacità e la consapevolezza di giocare nel Bari, una squadra che ovviamente in altre situazioni proprio si è spenta, una squadra che non ha carattere, una squadra che non ha determinazione e quindi non ci sono parole perché oggi ho visto delle situazioni veramente imbarazzanti. No perché Antonio poi è anche difficile difenderli, sono indifendenti. No perché siccome dopo Foggia qualcuno disse non siamo ancora squadra gruppo, ma questo gruppo l'hanno creato perché anche quando crea il gruppo Cristian vai oltre le difficoltà che può essere l'assenza di antinucci, infortuni e quant'altro e questo non c'è. Vuol dire che ancora la società tutti devono lavorare in questo senso.